Intanto un benvenuto a tutti quanti, come avete passato le vacanze, spero bene, spero che vi siate ritemprati, almeno come siamo ritemprati noi, almeno nella speranza di esserci ritemprati. Oggi cominciamo questa nuova serie di webinar, molto ricca, ce ne saranno addirittura 15, sono molto contento che questa cosa sia potuta andare avanti, io ne farò in tutto tre, questo di oggi più uno all'ottobre e un'altra a dicembre. Saluto tutti quelli che conosco anche personalmente, oggi tratteremo un tema piuttosto di attualità, perché parliamo del Freedom of Information Act o della libertà di accesso, come si voglia dire. Se siete d'accordo, io comincerei, anche perché siete ormai già abbastanza, 114 è un numero abbastanza importante e possiamo cominciare almeno a fare un po' la scaletta dell'intervento di oggi, come al solito questa è stata un'attività di approfondimento che nasce da conoscenze un po' più antiche su questo argomento, che però è stata molto appassionante, io vi assicuro che su questi temi che sembrano spesso lontani, poi in realtà hanno molto a che fare con le scelte di noi tutti i quotidiani, che quotidianamente facciamo e l'approfondimento in particolare sulla libertà di accesso, vedrete, spero di trasmettervi più o meno la stessa passione con cui ho fatto questo tipo di approfondimento. Questa è un po' la scaletta di oggi, facciamo una brevissima ricognizione della situazione in Italia e del perché questo tema è diventato di così scottante attualità negli ultimi tempi, perché vi anticipo c'è stata l'approvazione di una legge delega, ma poi ne parleremo molto approfonditamente di questa legge delega. parleremo poi a livello più concettuale della libertà di accesso, perché come credo sapete tutti, se mi seguite da un po', più che dal punto di vista giuridico mi occupo soprattutto di quello che c'è dietro questi concetti di trasparenza, integrità, etica e in questo caso anche di libertà di accesso. Cercherò di offrire un umilissimo contributo anche perché chi tratta di queste cose è già assolutamente in grado di farlo e dal punto di vista giuridico ci sono dei veri e propri campioni su questo tema, quindi il mio approfondimento è più di grande, cercherò di tirare dentro alcune curiosità che mi vengono ogni volta che osservo questi fenomeni e che spero di ritrasmettervi. Faremo un breve approfondimento sul primo FOIA che c'è stato nel mondo ed è quello svedese, forse per la prima volta non so se era per la prima volta, ma credo di sì perché non l'ho trovato in nessun'altra presentazione. Mi sono messo alla prova di tradurre il Freedom of Information Act del 1766, chiaramente io l'ho tradotto parzialmente perché è un atto abbastanza complesso, ma è molto bello e so che tra di voi ci sono dei veri appassionati di diritto, secondo me quella è una delle innovazioni normative più interessanti, più belle, anche scritta bene di quelle che ho avuto occasione di vedere, una vera rivoluzione culturale. Tratteremo brevemente perché se non si prende in considerazione il FOIA svedese è difficile avere i parametri per giudicare la libertà di accesso che viene dopo sostanzialmente, anche perché normalmente si prende come parametro la libertà di accesso americana, il Freedom of Information Act varato nel 1966 negli Stati Uniti, noi invece proviamo a fare questo spostamento verso l'origine. Nell'ultima parte ragioniamo un pochino su quello che si può fare in Italia, il mio intento è semplicemente la mia ambizione, se ci riesco alla fine me lo direte, se riusciamo a fare un po' più di pulizia concettuale su che cos'è la libertà di accesso, anche perché dobbiamo essere un po' preparati a seguire l'andamento, la costruzione di questa nuova normativa che si sta avviando in Italia. Prima parte situazione in Italia, non abbiamo ancora un Freedom of Information Act, però che è successo recentemente, non abbiamo riconoscimento della libertà di chiunque di accedere ai dati e alle informazioni in qualsiasi modo prodotte o detenute dall'amministrazione pubblica, questa è una definizione di massima della libertà di accesso, noi abbiamo dal 1990 la legge 241 che viene qualificata come legge sul diritto di accesso agli atti, vedremo qual è la relazione tra questa legge e la libertà di accesso, il Freedom of Information Act, quindi non abbiamo ancora una libertà di accesso piena per chiunque di accedere ai dati e alle informazioni, però abbiamo una delega al governo, in questa slide c'è anche il link, se poi potete andare a vederla, ma penso che molti di voi la conoscono già bene questa delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni, perché? Perché se ne è parlato tanto, ci sono stati molti commenti a proposito, tra l'altro ci fu una famosa slide, si è diventata famosa perché riprendeva il fatto che finalmente in Italia abbiamo un Freedom of Information Act, in realtà noi abbiamo una promessa di adottare un Freedom of Information Act, dentro questa legge delega c'è scritto che entro sei mesi il governo dovrà adottare una normativa che sembra promettente, perché in realtà all'interno di questa legge delega esistono degli elementi concettuali che sembrano favorire l'idea che ci sarà l'adozione di un Freedom of Information Act, quali sono questi elementi? Questo è il testo della legge delega che stabilisce l'articolo 7 lettera H che fermi restando gli obblighi di pubblicazione, qui mettiamoci subito l'anima in pace, il 33 2013, così come lo conosciamo rimane, rimangono gli obblighi di pubblicazione, vedremo poi alla fine, cercheremo di capire come è possibile che le due cose siano compatibili, in realtà le due cose sono compatibili, anche se concettualmente sono molto diverse le due cose. C'è appunto il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto d'accesso, anche per via telematica, qui non essendo io un esperto della parte telematica lascio ad altri l'approfondimento su che significa anche per via telematica, ma quello che ci interessa è il terzo paragrafo, di chiunque indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, qui c'è la grossa cesura di questa disposizione rispetto per esempio alla 241 del 1990 che invece riconosceva l'accesso solo a chi dimostrava la titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. A che cosa si può accedere? I dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, quindi qui non c'è un'idea di prodotti o detenuti, formati o detenuti, perché in varie diciture si trovano queste altre formulazioni. Salvo i casi di segreto o di rilievo di divulgazione previsti dall'ordinamento, ecco le eccezioni, una delle due eccezioni è il segreto e l'altra è quello del rispetto della privacy, quindi anche il rispetto dei limiti relativi a tutela di interessi pubblici e privati. Qui non è così chiaramente esplicitata la seconda eccezione che è la tutela della privacy, ma normalmente in qualsiasi normativa sulla libertà di accesso trovate sempre queste due eccezioni. La prima eccezione è il segreto, il segreto di Stato, cioè tutto ciò che può nuocere alla sicurezza nazionale, la seconda eccezione è il fatto che la conoscenza dei dati di informazioni possa mettere a rischio interessi individuali legati alla forma di privacy e di riservatezza. Al fine di favorire le forme diffuse di controllo, questa è la vecchia dicitura, quella che troviamo anche nell'articolo 1 del decreto legislativo 33, su a che serve la trasparenza che viene fuori da questa libertà di accesso, per permettere agli individui e le organizzazioni di realizzare di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. Questa lettera F dice anche un'altra cosa importante, che in realtà sembra meno importante, ma sicuramente molto importante, è la previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano all'esercizio della libertà di accesso, questo è fondamentale, è chiaro, oltretutto garantisce procedure di ricorso all'autorità nazionale anticorruzione quando ci siano delle situazioni controverse, il ricorso all'autorità nazionale anticorruzione dovrebbe in qualche maniera garantire il fatto che non ci siano forme di ricorsi giurisdizionali o siano limitate forme di ricorsi giurisdizionali, perché come potete ben capire con la lentezza della giustizia che abbiamo in Italia, la pendenza dei ricorsi farebbe in qualche maniera diventare inutile qualsiasi forma di richiesta di accesso secondo gli schemi del Freedom of Information Act, questo è il testo della legge delega, quindi questa è la promessa di Freedom of Information Act, di libertà di accesso che noi abbiamo in questo momento, come vedete ci sono dei paletti concettuali molto importanti, molto interessanti, ci sono dei rischi che poi questa normativa non tiri fuori una delega veramente innovativa, veramente funzionante ed efficace, questi rischi vanno presidiati chiaramente, perciò bisogna conoscere bene come funziona il Freedom of Information Act, come funziona negli altri paesi, quali sono le disposizioni che rendono questa normativa efficace, perché se noi conosciamo queste cose qui riusciamo anche a seguire il percorso di adozione di questa legge delega e cerchiamo anche di aiutare chi probabilmente la sta già scrivendo a non cadere in qualche tranello che abbiamo visto può rendere molto debole o fragile questa normativa. In molti in Italia si occupano di questo di seguire l'elaborazione di questa normativa, primi fra tutti quelli di Foglia For Italy che stanno lavorando in maniera molto attiva, molto interessante, cercando di dare molta informazione, c'è anche un ottimo video girato dall'avvocato Belisario che tra l'altro sarà la settimana prossima qui a fare il webinar per voi sui pericoli e sui rischi di non avere un Freedom of Information Act all'altezza, ma anche in sede governativa abbiamo visto il Ministro Madia si è speso anche per, c'è sempre un video che gira online su questo, c'è stato questo episodio appunto di questa slide che è andata un po' in giro, ma consideriamola un po' un eccesso di enfasi su questa cosa, quindi c'è una promessa e la promessa è veramente importante, vediamo appunto di non perdere questa occasione, quindi quello che voglio mettere un po' sul piatto è giustificata tale enfasi, è giustificato il fatto che attraverso il Freedom of Information Act, la libertà di accesso, avremo maggiore trasparenza, avremo maggiore apertura, avremo maggiore qualità delle decisioni pubbliche, circoleranno maggiormente le informazioni, sarà possibile per noi osservare, valutare meglio come vengono spesi i nostri soldi, come funzionano i nostri servizi etc., questa promessa effettivamente ha un senso oppure no? L'idea che mi sono fatto, l'ipotesi che voglio lanciare è che questa promessa avrà senso solamente se effettivamente mettiamo in atto un vero Freedom of Information Act, cioè una vera libertà di accesso che abbia determinate caratteristiche e che non ceda nemmeno di un millimetro da queste caratteristiche, perché tutto ciò che faremo diversamente in realtà probabilmente non avrebbe quella efficace. Questa è anche una mia idea di fondo, l'ho già scritto varie volte su trasparenza e trasparentismi, chi lo conosce, lo rimando, la trasparenza non è solamente un impianto normativo, è anche dei connotati culturali che in qualche maniera, anzi molto più profondi dell'impianto normativo e quindi prima bisogna entrare dentro un'idea di che cosa vogliamo fare con la trasparenza, dopodiché l'impianto normativo dovrebbe eseguire. Quindi presidiamo con attenzione questa fase, approfondiamo se vogliamo, divertiamoci a studiare la libertà di accesso, perché questa è una caratteristica fondamentale di quelle che io chiamo le democrazie evolute, le democrazie che vogliono avere un salto di qualità, prima o poi si dotano di questa libertà di accesso, per chiunque ovviamente. Quindi qua ho messo una slide più leggera, trasformiamoci in cani di tartufo, andiamo a scovare il nostro FOIA, anche perché FOIA, sul fatto che si usi questo acronimo, c'è stato anche un intervento molto interessante e condivisibile, perché non abbandoniamo questi inglesismi e cominciamo a chiamare libertà di accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, chiamiamola libertà di accesso e piano piano creiamo anche una cultura italiana rispetto a questo. Però la prima cosa è effettivamente linguistica, la prima questione che io pongo è quella linguistica, perché traduciamo freedom of information con libertà di accesso, perché freedom of information, insomma mi sembra abbastanza ovvio, si dovrebbe tradurre con libertà di informazione, non con libertà di accesso. Allora perché traduciamo così? Perché leggendo un po' in giro approfondendo si ha abbastanza l'idea che la libertà di informazione, la libertà di accesso in realtà sono due facce della stessa medaglia, in questa slide provo a spiegare questo, vedete l'immagine del Giano Bifronte, quando parliamo di rapporto di fiducia o patto di alleanza che ogni singolo cittadino instaura col proprio governo, parliamo di una delega di potere a notorietà pubblica, io cittadino delego il mio rappresentante o delego l'amministrazione ad esercitare un potere che però l'amministrazione o il mio rappresentante in qualche maniera è tenuto a rendere conto, sia delle modalità con cui tale potere viene esercitato, sia dei risultati che tale potere ottiene. Quindi due sono gli elementi, processo e prodotto, il primo è come ti organizzi, che cosa fai effettivamente per ottenere un risultato e poi effettivamente se questo risultato lo ottieni oppure no, perché altrimenti non siamo più in un campo di rappresentanza efficace, ma siamo nel campo un po' diverso. Quindi quando c'è questo rapporto, il cosiddetto rapporto di agenzia, chiamatelo un po' come volete, io delegante, devo essere messo al corrente, devo poter accedere a tutte le informazioni sia sulla modalità con cui tu organizzi il tuo lavoro di decisore pubblico, sia sui risultati che tu ottieni quando effettivamente eserciti quel potere. Quindi la libertà di freedom of information, quindi libertà di informazione, non si può garantire se non c'è questa necessaria e assolutamente indispensabile libertà di accedere alle informazioni su questi due elementi, quindi modalità e risultati. Noi abbiamo un principio costituzionale che tutela la libertà di informazione, questo è abbastanza noto, credo che lo conoscano tutti, è una delle migliori formulazioni, quella della Costituzione italiana, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ogni altro mezzo di diffusione, ma non abbiamo il suo corrispettivo, il suo speculare che è chiunque vuole accedere liberamente alle informazioni formate o detenute o comunque in possesso delle pubbliche amministrazioni, perché si potrebbe dire con una formula piuttosto banale, se mi lasciate un po' passare questa cosa, posso scrivere, commentare, parlare di tutto, più o meno di tutto, a meno che non ci siano delle limitazioni che sappiamo bene, ma di che cosa parlo quando stiamo parlando dell'esercizio del potere amministrativo e politico, se non ho accesso alle informazioni che mi farebbero esprimere un commento, questa liaison, questo aggancio tra libertà di informazione e libertà di accesso che è una delle caratteristiche delle democrazie moderne, delle democrazie più evolute, questo aggancio noi non ce l'abbiamo ancora ed è questo che stiamo cercando, si sta cercando attraverso questa legge delega di mettere a sistema, libertà di informazione, capacità di esprimere, possibilità di esprimere opinioni, commenti, informare i cittadini su qualcosa, però sulla base di dati e informazioni che effettivamente sono in questo momento detenute dall'amministrazione pubblica. Questa formulazione in realtà, che sembra una cosa piuttosto banale così come la vediamo, esiste, sta in qualsiasi formulazione avanzata di diritti, per esempio sapete che mi occupo anche dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nella Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza c'è un articolo 12 che mi garantisce, che garantisce che i bambini esprimano liberamente tutte le opinioni che vogliono su tutte le questioni che li riguardano, ma poi c'è l'articolo 17 che dice ai bambini devo garantire, io stato, io famiglia, io educatore, pieno accesso alle informazioni, infatti quando noi ci occupiamo di partecipazione, noi la chiamiamo la partecipazione informata, noi non favoriamo nei bambini la partecipazione quella da bar, come diremmo noi, da bar dello sport, in cui ognuno ha un'opinione su tutto, perché? Perché non esiste poi nessun dato, nessuna informazione su cui basare quell'opinione, noi promuoviamo una partecipazione informata, quindi l'articolo 12 non potrà mai essere disgiunto dall'articolo 17, questi due elementi, libertà di esprimere la propria opinione con la libertà di poter accedere ai dati e alle informazioni, formano la libertà di accesso, la libertà di informazione e la libertà di accesso, sono alla base di qualsiasi Freedom of Information Act che si rispetti, quindi è questa la grande innovazione a cui stiamo cercando di arrivare, agganciare la libertà di informazione già tutelata, anche se poi in Italia come sapete abbiamo un indice di libertà di informazione piuttosto basso, poi lo vedremo, agganciare a questa libertà di informazione la possibilità di avere i dati e le informazioni sui quali poi poterci formare un'opinione, su quale poterci formare un'opinione, sostanzialmente e concettualmente è questo. In molti pensano, tra questi anche un autorevole esponente, in questo caso il direttore della National Security Archive, quindi non uno qualsiasi, che la libertà di accesso, un accesso libero, una maggiore consapevolezza dei cittadini e la loro capacità di agire sulla base di essa è un fattore primario di sicurezza più significativo rispetto alle misure di segretezza, perché qual è il principio che contraddice, in qualche maniera che si oppone a questa libertà di informazione? Che più tengo i cittadini al segreto di informazioni importanti, in qualche maniera più li libero dalle responsabilità e più li faccio vivere sereni e in qualche maniera non angosciati da quello che potrebbe succedere effettivamente. Invece nelle moderne democrazie è proprio il contrario, si tende a privilegiare il fatto che le persone vengano informate e anzi l'informazione e la conoscenza da parte dei cittadini è proprio uno strumento di costruzione della sicurezza nazionale. Quando parlo di sicurezza parlo non solamente di sicurezza in termini, ma parlo anche di prevenzione della corruzione che poi è anche il nostro tema principale. Questa è la situazione al 2013 a livello nazionale di come funzionano le leggi, le norme, la normativa in generale sul diritto di informazione, quindi sulla libertà di accesso. Come vedete il verde scuro significa che esistono delle normative omnicomprensive e poi man mano scende la gradazione di colore fino a avere nel bianco un'assenza totale. Noi come siamo messi? Noi siamo in verde perché viene considerata la 241 del 1990 una normativa che ha a che fare con il diritto di accesso e quindi in qualche maniera si dice che siamo dotati nel 1990 di quella normativa, possiamo dire di avere una normativa omnicomprensiva, ma poi quando vai a cliccare sull'Italia e c'è scritto appunto si qualifica, si dice che è vero che l'Italia ha questa norma, ma è una norma molto limitata e molto limitante sul diritto di accesso. Io giocando un po' e scherzando dico che la 241 non si dovrebbe chiamare una legge sul diritto di accesso, ma si dovrebbe chiamare legge sul diritto della pubblica amministrazione di tenere riservate le informazioni, con alcune eccezioni, quali sono queste eccezioni? Quando il richiedente dimostra di avere un interesse diretto all'acquisizione di quella informazione, perché dal punto di vista concettuale effettivamente è così. La libertà di informazione nota come libertà di accesso e quindi facciamo una specie di sintesi finale di quello che abbiamo detto fino adesso, è il diritto del pubblico ad avere accesso alle informazioni prodotte e o detenute dal governo e altre autorità pubbliche. La prima normativa che tra l'altro aveva una rilevanza costituzionale sul diritto di accesso, sulla libertà di accesso come ve l'ho cercata di spiegare precedentemente è svedese, fu introdotta in Svezia nel 1766 e ha questo nome impossibile da pronunciare, quindi io non lo pronuncerò e vi assicuro che quando l'ho fatto leggere al mio amico svedese che ha tirato fuori una pronuncia che non ha nulla a che fare con quello che sta scritto là sopra, quindi nemmeno attraverso il Siri dell'iPhone riuscireste mai a trovare questo tipo, dovete copiare quella parola lì che in realtà ne contiene almeno 4, perché sapete che le lingue di quella parte lì hanno questa capacità di inglobare più parole all'interno della stessa parola, copiare e incollare su Google direttamente e comunque vi escono fuori risultati incomprensibili perché vi riporta appunto alla dicitura svedese. In realtà la traduzione è la libertà di scrittura e di stampa, diciamocelo così. Fu introdotta nel 1766 fu promossa da questo filosofo illuminista Andeschidenius, di cui parleremo tra un pochino in un breve approfondimento. Da allora abbiamo 90 paesi con 5,5 miliardi di abitanti, la cosa interessante è che circa 50 paesi garantiscono la libertà di accesso come principio costituzionale, immaginate che dopo il principio di libera manifestazione attraverso scrittura, stampa, quello che abbiamo in Costituzione, ci fosse un altro articolo subito dopo che dicesse una cosa tipo questa, chiunque può accedere liberamente alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione a meno che non sia escluso dalla legge. Questo è il principio costituzionale, se ci fosse in Italia sarebbe espresso più o meno in questa maniera qua. Poi la libertà di accesso è anche diventato un diritto umano internazionalmente garantito, esistono poi delle organizzazioni che si occupano di fare dei rating su questa libertà di accesso, sono Right to Information RTI, RTI rating, si dice proprio Right to Information, è il sistema di rating che misura le leggi, poi vediamo anche come siamo messi noi su questa cosa qua, c'è una slide che ce lo fa vedere. Adesso facciamo un brevissimo approfondimento, anche se secondo me la cosa più interessante per chi poi ha una passione su queste cose qui è questa parte qua veramente, la parte sul Freedom of Information Act svedese. chi mi conosce sa che a me piace particolarmente inserire questi concetti all'interno del papà e la mamma, cioè chi se li ha inventati e che cosa c'era dietro dal punto di vista filosofico e culturale che ha dato vita a questo tipo di esperienza. In Svezia nel 1766 per una pura casualità che la storia qualche volta ci regala, si trovarono delle situazioni insieme, si trovarono insieme che favorirono l'adozione di questa normativa. Allora nel 1766 facciamo un attimo mente locale, significa 10 anni prima della rivoluzione americana, 23 anni prima della rivoluzione francese e 250 anni fa, insomma già questo potrebbe essere una… come fu possibile che qualcosa che a noi ci sembra adesso ancora un miraggio e che in qualche maniera ci fa pensare alla democrazia come una democrazia evoluta, in realtà in Svezia nel 1766 quando ancora non esistevano le democrazie parlamentari come le conosciamo noi adesso, non esisteva ancora la democrazia ma c'erano gli stati nazionali, come è stato possibile tutto questo? Effettivamente la figura di Anders Kedenis è centrale rispetto a questo, all'epoca in Svezia c'era un parlamentarismo piuttosto ancora complicato, non era come il parlamentarismo di adesso, c'erano due partiti sostanzialmente, i Cappelli e Berretti, i Cappelli li possiamo vedere un po' come i tradizionalisti conservatori, i Berretti invece erano i progressisti o i laburisti, chiamiamoli così, insomma, io non ho usato appositamente diciture italiane perché non ci stiamo capendo più niente in questo momento sui posizioni, però immaginate che conservatori e laburisti forse ci dà un po' più l'idea della collocazione. Dovete immaginare che la Svezia non è sempre stata quel campione di trasparenza e integrità che tutte le classifiche internazionali ci vogliono rappresentare, prima di questa riforma di Kedenius, prima del 1766 esisteva una totale assenza di libertà di stampa e la burocrazia era molto, molto scura, anzi non si collocava a livello di apertura dell'azione amministrativa come un paese ai vertici, anzi comandavano i Cappelli, i tradizionalisti per lungo tempo comandavano i Cappelli, dopodiché a un certo punto invece i Berretti presero il potere e fu quell'anno dopo in cui i Berretti presero il potere che Kedenius poteva adottare questa riforma costituzionale, però cominciavano a sapere che in quell'epoca l'illuminismo in Europa aveva un'ampia eco, adesso non mi metto a raccontare tutto, però immaginate che Kedenius è proprio l'espressione massima dell'illuminismo svedese, nato a Sotkamo, quindi in Finlandia, perché in quell'epoca la Finlandia e la Svezia erano uniti, ecco una delle cose che diceva Kedenius, il governo di una nazione funziona meglio se condivide più informazioni possibili con il proprio popolo, era una risposta a uno schema più o meno oscurantista portato avanti dai Cappelli, l'altro elemento fondamentale da non dimenticare mai è che Kedenius era un pastore della chiesa luterana e se qualcuno si è letto trasparenza e trasparentismi e conosce un po' quel tipo di approccio sa benissimo che questo tipo di situazioni poteva prendere piede secondo me solo e soltanto all'interno dei paesi che avevano come background culturale e religioso la riforma luterana, perché erano in qualche maniera meno condizionati da un certo tipo di atteggiamento culturale che invece c'era più proprio dei paesi del sud d'Europa che avevano sposato la controriforma. Il luminismo fu una corrente filosofica importantissima in Europa, però in pochi paesi ebbe poi la possibilità effettivamente di esprimere una forma di governo, in effetti poi la produzione culturale dell'illuminismo al governo fu la rivoluzione francese e quindi situazioni molto esplosive, molto violente, in realtà la rivoluzione svedese in questo senso fu una rivoluzione pacifica perché l'illuminismo in un determinato momento andò al potere e quando andò al potere fece effettivamente quello che aveva promesso. La presenza di Chidenius fu molto rapida, fu eletto nel 1765 e dopo un anno uscì fuori questa legge, quindi lui aveva tutto un background culturale che in qualche maniera gli consentì di arrivare al potere e effettivamente di avere questo tipo di impatto subito, subito dopo, un anno dopo. Fu messa in piedi una commissione, Chidenius ne prese il comando e questi erano un po' gli orientamenti filosofici, se vedete, per esempio i cittadini dovevano seguire i loro capi ma non ciecamente, questo dà spazio a forme di non conformità e di distenso. Un'altra cosa che diceva e che era molto in linea con qualcosa che disse Popper almeno 200 anni dopo, lui usò questa locuzione molto interessante, nessuna fortezza può essere lodata più di quella che ha subito i più duri assedi, se l'obiettivo è chiaro allora la verità deve essere ricercata attraverso lo scambio di scritti, lui diceva non bisogna avere paura di criticare, non bisogna avere paura di subire delle critiche, se tu stai in buona fede, se tu hai fatto bene il tuo lavoro, lascia che gli altri lo giudichino apertamente, lascia che il tuo agire sia sotto gli occhi del pubblico e il pubblico come si dovrà comportare? Ognuno potrà avere la sua tesi, in questo sta lo scambio di scritti, rimarrà in piedi solo la tesi che in qualche maniera dimostrerà di essere più fondata, che è la stessa cosa che disse Karl Popper nel suo famoso Open Society quando descrisse le teorie scientifiche come le teorie che dopo una lunga serie di falsificazioni rimangono in piedi e la democrazia funziona esattamente allo stesso modo, non bisogna essere dei cortigiani nelle democrazie, perché quello è uno schema completamente diverso, bisogna mettere a nudo tutto quanto, perché quello che rimane in piedi è effettivamente una democrazia più efficace, più funzionale, quindi il dissenso fa parte della democrazia, lo scambio di scritti, il fatto che la stampa, la libertà di espressione deve essere al centro, infatti Chidenius usava a dire che la riforma, la libertà di accesso, la libertà di informazione erano le pupille degli occhi di ogni costituzione, lui usava questa locuzione, il centro di tutte le forme costituzionali, all'interno di ogni costituzione ciò che è veramente importante è la libertà di informazione legata alla libertà di accesso, ed eccolo questo documento in qualche maniera affascinante, ancora attualissimo, tra l'altro è scritto molto bene, ripeto, non proverò nemmeno a nominare quella parola, perché non saprei effettivamente da dove cominciare, forse dal contrario si legge anche meglio. Questa è l'introduzione a quella normativa, vi faccio vedere veramente due cosette di questa, ma vi invito poi a scaricarvela e se avete tempo a leggervela, perché è bellissima e affascinante. Vedete qui, chi si occupa di trasparenza ci fa sopra dei webinar, ma questo in quattro punti ci descrive a che serve la trasparenza e molti di noi ancora discutono, perché se voi ci fate caso, io l'ho cercato di spiegare nella traiettoria della trasparenza, in questo momento per noi la trasparenza è anticorruzione, se ci fate caso, per come è andata a finire la legge 190, la trasparenza per noi è una misura da inserire all'interno del piano ordinare anticorruzione, ed è esclusivamente quello, invece la trasparenza è molto di più secondo noi e secondo Chidenius che lo scrisse in maniera molto… la trasparenza, l'apertura, il fatto che le informazioni fruiscano, il fatto che ci sia libero accesso alle informazioni detenute dall'amministrazione pubblica, offre come vedete opportunità a ciascuno dei fedeli di acquisire una migliore conoscenza e apprezzamento del sistema di governo saggiamente ordinato, non è solamente anticorruzione, è anche la possibilità di offrire dei servizi migliori, di far conoscere i servizi, una visibilità reciproca e senza restrizioni, favorisce non solo lo sviluppo e la diffusione delle scienze e dei mestieri, la trasparenza serve anche a fare business diremmo in qualche maniera oggi. Lui lo diceva molto tempo prima, è molto interessante osservarlo all'interno di qualcosa che risale a 250 anni fa, ma dove sta scritta questa libertà di accesso? Perché è là che vogliamo arrivare sostanzialmente, qui ci occupiamo appunto di questo sostanzialmente. è legittimo scrivere e stampare un po' di tutto, ma in particolare come vedete qui delle attività dei dipartimenti governativi e dei funzionari, di cosa si può accedere? come vedete alle sentenze, autorizzazioni e decisioni, riscritti gli ordini, le norme, i regolamenti, i privilegi, i documenti di qualsiasi natura che siano stati emanati dai dipartimenti governativi, dagli uffici, quindi tutto quello che gira all'interno dell'amministrazione pubblica, ma la cosa interessante è che non ci fermiamo a questo, alla corrispondenza pubblica di tali uffici e dei loro funzionari, anche alle lettere che si scambiano, vedete nel punto che ho sottolineato in rosso, e qui sta la libertà di accesso, a tal fine il libero accesso dovrà essere consentito a tutti gli archivi, ai fini di copiare tali documenti in loco o di ottenere copie conformi di essi. E questa è la libertà di accesso che dopo 250 anni in Svezia, adesso vi faccio vedere anche in breve quali sono gli effetti di questa libertà di accesso in Svezia, la responsabilità per la cui fornitura è soggetta alla sanzione di cui al comma set, cioè se un amministratore pubblico si rifiuta di garantire accesso a quel tipo di informazioni, perderà la sua carica o se si rifiuta di farlo o ostacoli di accesso. Dice anche Chidenius, siccome sono talmente tanti i documenti, questo è interessante perché ci fa capire qualcosa sugli obblighi di pubblicazione, se proviamo a seguire il ragionamento che fa Chidenius, siccome ce ne sono talmente tanti che sarebbe difficilissimo enumerare tutti i soggetti e gli atti possibili da rendere disponibile al libero accesso, decidiamo di esprimere un principio che vale per tutti, tutti i nostri sudditi fedeli possono avere a fare uso di una completa e incondizionata libertà di rendere generalmente pubblico attraverso la stampa tutto ciò che non si trova ad essere espressamente proibito nei primi tre commi o comunque in questo ordinato. E sta qui il principio, cioè tutto è aperto, solo alcune cose non possiamo aprirle, ma quelle cose che non possiamo aprire, cioè che non possiamo rendere pubblico, devono essere contenuti dentro questa legge, cioè devono essere esplicitamente dichiarate da una legge. Quindi il principio è tutto è aperto, ci sono delle eccezioni che però sono delle eccezioni che dobbiamo in qualche maniera fare in modo di eliminare la possibilità che un qualsiasi funzionario pubblico attraverso una propria interpretazione possa in qualche maniera decidere che qualcosa è escluso. E questo è il principio, qui sta la rivoluzione di Chidenius. Immaginate che la legge che abbiamo adesso in Italia, la 241 del 1990, dice il contrario sostanzialmente. Le questioni di cui sopra non debbano mai con il pretesto che essa determini la censura alla corpora critica implicare il rifiuto o l'impedimento in fase di stampa. Poi fa una cosa in più Chidenius, perché lui durante i lavori della commissione, anche questo è molto interessante leggere come è andata avanti questa cosa, perché non è stato un percorso facile, Chidenius ha avuto mille nemici dentro questa commissione e fuori, che chiaramente cercavano di ostacolare al massimo l'apertura, cercavano di adottare un provvedimento molto limitato, molto limitante, allora lui decide a un certo punto di dire attenzione perché ho osservato questi tentativi da parte di chiunque di mettere degli ostacoli, facciamolo diventare un principio costituzionale, cioè facciamo in modo che per cambiare questa libertà di accesso veramente ci sia l'accordo di tutti, comunque di una larga parte della nazione e allora inserisce attraverso questo numero 14 la libertà di accesso di scrittura di stampa e la libertà di accesso connessa all'interno della Costituzione, per cui nessuno, chiunque gli possa essere appena della nostra disapprovazione, può avere il coraggio di sostenere la minima rielaborazione o la limitazione di questa benevola ordinanza, tantomeno se ricorrerà alla sua propria autorità e nemmeno noi stessi, quando dice noi stessi parla del re, perché il soggetto che in qualche maniera sta parlando dentro questa ordinanza è sua maestà, quindi il re, quindi nemmeno al re, al sovrano sarà permesso di fare alcuna modifica rispetto a questa ordinanza e qui sta l'elemento della rilevanza costituzionale. Comunque chi avesse voglia, tempo e interesse si può scaricare questo documento molto interessante sul primo foglia del mondo elaborato dalla fondazione Chidenius svedese, perché è la prima volta che viene tradotto in inglese, nel 2006 sono passati 240 anni, in Svezia si fa una specie di festa nazionale, una cosa che ho notato è che in qualsiasi documento svedese che ho letto o quello tradotto, qualsiasi cosa che ha a che fare con gli svedesi, loro mettono questo principio, il principio di apertura e libertà di accesso come il vero fondamento e il motivo per cui loro in questo momento si trovano ad avere una certa affidabilità dell'azione amministrativa, un'integrità, perché si trovano ad essere così avanti rispetto a tanti altri stati e loro in qualche maniera dicono anche noi avevamo paura di entrare in Europa perché l'Europa non ci garantisce lo stesso livello di apertura che noi garantiamo ai nostri dati e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione. Ok, adesso entriamo nella parte più concettuale, quindi Freedom of Information Act, un acronimo che misura le distanze, vorremmo far assaggiare un po' il foglia svedese perché secondo me è lì che risiedono poi tutti gli elementi che ci aiutano a decodificare che cos'è un foglia che cosa successe in Svezia dopo che uscì fuori questo provvedimento che tra l'altro ebbe alcune vicissitudini, ci sono due elementi fondamentali, primo fiorì la stampa indipendente, prima di allora non c'erano giornali o riviste che si occupassero di politica o di economia, perché? Perché non avevano sostanzialmente nella possibilità, c'era un divieto assoluto di scrivere su certi temi, nel momento in cui questo divieto appunto fu abolito, ci fu libero accesso a tutte le informazioni che erano detenute dall'amministrazione pubblica, è chiaro che si sviluppò una stampa indipendente e questo fu molto importante, siamo agli albori della democrazia, immaginiamo 1766, ma la cosa più interessante per noi che ci occupiamo di questi temi è il secondo elemento, ogni amministrazione pubblica, nazionale, locale si dotò di un potentissimo sistema di archiviazione, la Svezia in realtà divenne un grosso archivio di Stato sostanzialmente, tutto quello che transitava, tutti i documenti prodotti, ma anche quelli che venivano in qualche maniera destinati all'amministrazione pubblica, dovevano essere stoccati e catalogati, inseriti all'interno di specifici archivi che dovevano essere messi a disposizione di tutti i cittadini che ne facessero richiesta. Quindi l'elemento fondamentale su cui si basa un buon foglia sostanzialmente non è tanto la pubblicazione di dati, che è un elemento accessorio, e qui sta la grande differenza anche con il decreto 33 se vogliamo, ma è la capacità di archiviazione, che non è solamente una capacità tecnica di archiviazione, ma è una capacità, un atteggiamento del pubblico dipendente, del politico, dell'amministratore locale o nazionale che deve sapere che qualsiasi cosa fa o qualsiasi documento gli arriva dall'esterno, lo deve comunque classificare, lo deve rendere disponibile e ha l'obbligo di renderlo disponibile. Questo è un cambio culturale enorme e ci vogliono più di 2 o 3 anni, immaginate quanto ci vuole, però dopo 250 anni in effetti la Svezia è diventata questo, è diventata un grosso archivio di Stato e questo archivio di Stato è assolutamente aperto. Adesso con internet chiaramente cambiano un po' le cose, perché l'archiviazione può essere in qualche maniera molto più facilitata. Qualche anno fa nel 2007 uscì fuori un reportage molto interessante che si chiamava le trasparenze svedesi e andarono a indagare, proprio quando si iniziava a ragionare di trasparenza, andarono a vedere come fanno gli svedesi, un video di 8 minuti, ma che secondo me anche inconsapevolmente dal punto di vista di chi ha fatto, ma con grande capacità poi di sintesi di chi ha fatto questo servizio, con la limitatezza degli approfondimenti che descriveva in maniera molto interessante l'effetto della riforma di Keyvenius del 1766. Siccome purtroppo non riesco più ad accedere online a questo video, ma me lo sono scaricato, in realtà ho fatto brevissimamente alcune sbobbinature, tra l'altro sono disponibili anche sul sito di report. Per farvi capire che cosa è diventata la Svezia dopo quella riforma, questo giornalista italiano entra in uno di questi archivi, non deve dare nessun documento e nemmeno dichiarare la propria identità, questo è un altro principio fondamentale del Freedom of Information Act, non devi essere cittadino svedese, non devi qualificarti, l'accesso è garantito a chiunque, quindi non serve sapere chi sei, non serve sapere perché vuoi accedere a quel documento, perché partiamo dall'opposto, partiamo dall'idea che l'informazione di quel documento sono già aperti, nascono liberi sostanzialmente, non devono essere liberati. Una volta dentro si è accesso a un computer, contiene l'elenco di tutti e quando dico tutti intendo tutti i documenti prodotti ricevuti dai ministeri, ad esempio quando questo tizio è entrato dentro ci sono tutti i documenti registrati in quel giorno, non c'è nessun documento che passa dal ministero che non venga registrato. Uno dei ministeri aveva due documenti quel giorno, come vedete a questo punto bisogna segnarsi il codice d'identificativo, fare la richiesta alla segreteria, la segreteria in tempi brevissimi, entro la giornata consegna al destinatario tale documento, senza che tu ti qualifichi né nome e cognome, se hai una titolarità, un interesse puoi dimostrare che hai un interesse dentro quella vicenda perché a nessuno è richiesto questo e senza dichiarare il motivo per cui tu fai tale richiesta, che chiaramente è contrarissima a tutte le leggi sulla libertà d'accesso. Il principio è che tutto deve essere molto semplice, non bisogna compilare nessuna richiesta formale, i documenti possono essere richiesti in ogni modo e questo è un altro elemento fondamentale. Per esempio se un ministro fa un viaggio è tenuto a fare resoconto di tutte le spese sostenute, questo resoconto è pubblico, qualsiasi cittadino può andare presso il ministero e chiedere di consultarlo, quindi ogni funzionario pubblico nel momento in cui fa il biglietto sa già che quello che farà sarà direttamente visibile, in tempo quasi reale, lo facevano in tempo reale quando non esisteva internet o comunque quando internet era piuttosto blando ancora nel 2006, figuriamoci adesso quanto può essere in tempo reale, sempre in trasparenza e trasparentismi c'è una, se vi ricordate, se l'avete letto c'era una definizione di trasparenza in tempo reale e trasparenza a posteriori, la trasparenza per essere efficace deve essere in tempo reale, non può essere posticipata a un mese, due o tre mesi, quello che succede lo devo sapere subito. Un altro esempio, il resoconti dei viaggi del personale del ministero delle finanze, biglietti, scontrini etc. Questo è un elemento importante, per essere sinceri prima di lasciar consultare questi documenti li facciamo controllare dall'ufficio legale, perché potrebbe essere necessario dover cancellare qualche nome oppure qualche numero di telefono solo per tutelare la privacy. Ed ecco le eccezioni, ma l'eccezione non è che se io capisco che c'è un problema di privacy non rilascio il documento, no, in questa situazione viene fatta un controllo su questi documenti, se ci sono elementi di privacy vengono oscurati, in qualche maniera in quel caso venivano sbianchettati, molto semplicemente. Perché? Perché in Svezia esiste questo famoso, lo chiamano Malloppone, ma è un grande libro delle eccezioni, che è esattamente quello che vi cercavo di spiegare prima, chiunque può accedere alle date e alle informazioni a meno che non sia disposto dalla legge, non è che un funzionario si può inventare di escludere l'accesso a qualcuno, perché in qualche maniera interpreta la norma in un certo modo, no, per escludere il diritto d'accesso ci deve stare scritto sul famoso libro delle eccezioni, no? Per tenere segreto qualcosa bisogna che sia scritto esplicitamente in questo codice. Ci sono solo due macro-categorie, che però possono avere molte micro-categorie, sono la tutela della privacy e la sicurezza nazionale. Altro elemento fondamentale, se io non ricevo e non ottengo l'accesso, posso fare ricorso? Se faccio ricorso, a chi lo posso fare questo ricorso? Una cosa è che io utilizzo la giustizia ordinaria, quando intendo ordinaria intendo anche la giustizia amministrativa e una cosa se ho un accesso privilegiato, per esempio in questo caso nella Svezia non c'è, ma per esempio in Inghilterra c'è, poi vi farò vedere come esiste l'Information Commissioner, che in qualche maniera è un accesso privilegiato in caso di ricorso. Nella proposta italiana, in realtà, che vi farò vedere quella fatta da Sfoia For Italy, la possibilità di ricorso viene assegnata all'autorità anticorruzione, quindi all'ANAC, quindi in effetti anche in Italia si sta pensando, almeno la proposta di Foglia For Italy, è di dare all'ANAC questo accesso privilegiato ai ricorsi, cioè se io non sono d'accordo su un'esclusione che mi è stata in qualche maniera fatta su un accesso che ho richiesto, posso andare all'autorità anticorruzione. Ecco poi, quando la Svezia ha deciso di aderire all'Unione Europea ha detto che il timore è che saremmo stati costretti a rinunciare a questo livello di trasparenza, effettivamente. Questo è il livello, quello che io in una slide cerco di sintetizzare, come gli effetti di una vera libertà di accesso. C'è l'anno di adozione, poi c'è RTI rating, il rating right to information, che è il diritto all'informazione, il punteggio più alto è 150, al 150 si ha massima libertà di informazione. Come vedete la Svezia è al 1992, superata dall'Unione della Gran Bretagna. La cosa interessante è il 130 dell'India, che però è molto ridimensionato dal CPI score, cioè dalla percezione della corruzione, che assegna a 100 una massima assenza di corruzione, quindi assenza di corruzione. Come vedete la Svezia è a 89, un alto tasso di assenza di corruzione, l'Italia siamo sul 43, il rating dell'Italia è 57 sul RTI, come vedete, perché noi non abbiamo una normativa. Vedete come loro continuano a mettere nel 1990 come momento in cui noi adottiamo una normativa sul diritto di accesso, sulla libertà di accesso. Io sostengo che non è proprio così, però va bene, ci può stare. Vi invito poi ad approfondire questa slide che è molto interessante. Qui veniamo un po' all'aspetto finale con cui vorrei chiudere con voi il ragionamento. questo tizio, Alexandre Saria, si è preso la briga di fare un'analisi comparativa di tutte le normative sul Freedom of Information Act mondiale, quella è un pochino più evoluta, e si è reso conto che, la slide precedente veniva proprio da questo rapporto, che si possono adottare vari tipi di FOIA, cioè vari tipi di Freedom of Information Act. ci sono quelli più puri, più vicini al modello svedese, chiamiamolo così, e quelli un pochino più compromessi, tra virgolette. E qual è il modo con cui si può, in qualche maniera, compromettere un FOIA, compromettere l'efficacia di un FOIA? Si può adottare una normativa che può essere costituzionale o ordinaria, che dice espressamente chiunque può accedere, però poi si possono fare un sacco di esclusioni, si possono escludere molti documenti, o per qualità dei documenti, o per soggetti da cui provengono, per esempio si possono escludere tutti i documenti che fanno parte dei partiti politici. Faccio un esempio sui partiti politici, per esempio sarebbe il caso di escludere dai FOIA, cioè dalla libertà di accesso, tutti i documenti relativi ai finanziamenti privati dei partiti politici, i famosi finanziatori delle cene, per prendere un po' a riferimento qualche elemento strano e attuale. Se all'interno di un FOIA si esclude la possibilità di accedere per esempio ai documenti in possesso dei partiti politici, non per ragioni di privacy, né per ragioni di sicurezza nazionale, ma perché semplicemente ad un ordinamento potrebbe sembrare sbagliato che i cittadini accedano a tale informazione, è chiaro che noi possiamo essere d'accordo sul principio di libertà di accesso, ma questo principio verrebbe essere profondamente diminuito, perché io non ho la possibilità di controllare, di accedere alle informazioni che mi farebbero capire quali sono gli interessi che finanziano un'azione di governo e che quando poi questa azione di governo si concentra proprio su quegli interessi, io voglio sapere, ho il diritto di capire e di essere informato su quali sono gli interessi che finanziano quel partito. Quindi questa è la prima situazione in qualche maniera che potrebbe compromettere un FOIA. Oppure si può anche adottare una legge sulla secretezza, i famosi Secrecy Act, che esenti molti documenti, per esempio il bilancio pubblico e la corrispondenza pubblica. Qui Sala lo dice perché è storia che negli Stati Uniti a un certo punto successivamente al 2001 il governo americano e la presidenza George Bush ridusse in maniera molto consistente l'accesso alle informazioni soprattutto per quanto riguarda i bilanci pubblici, non si doveva sapere quanti soldi l'America spendeva per esempio per le missioni internazionali di peacekeeping o di guerra proprio. Questo è un altro elemento, è chiaro, si può adottare un FOIA, ma se poi tu per ragioni di secretezza, lì c'era stata appena la situazione delle torri gemelle, quindi in qualche maniera quel Secrecy Act venne tirato fuori proprio da queste ragioni qui, però questo limita moltissimo, infatti il FOIA americano viene molto criticato, anche se poi ci sono state con Obama molte nuove aperture, però in America è molto criticato se vorrebbe ancora una maggiore apertura, c'è una guerra di opinioni molto forte tra chi vorrebbe maggiori aperture e chi vorrebbe invece restringere e in quel caso la guerra tra i cappelli e i berretti svedese in realtà esiste ancora, quindi chi vuole conservare e chi vuole invece avere un atteggiamento più aperto. Pertanto anche se un paese ha un FOIA ben strutturato, se ci sono numerose clausole di eccezione, queste clausole di eccezione coprono molti documenti o coprono addirittura dei soggetti, oppure non specificano precisi termini per la fine delle eccezioni, si può dire che questo documento viene tenuto riservato per due mesi, però poi dopo te lo devo comunque garantire, questo bisogna capire se poi effettivamente l'apertura di quel documento è realmente efficace, perché uno degli elementi della trasparenza è appunto il fatto che sia in tempo reale, cioè che io abbia l'informazione disponibile real time. In questi casi si hanno molti dubbi e Sala lo spiega e ho anche dovizia di evidenze, che questo tipo di freedom of information, questi tipi di libertà di accesso, se frazionati, e qui sta la frase di Chidenius, una libertà se è frazionata non è libertà, mentre una costrizione anche se è frazionata rimane una costrizione. Questo detto di Chidenius raffigura molto efficacemente l'idea che se tu devi adottare un freedom of information act, la libertà di accesso, o la adotti in maniera omnicomprensiva e con poche eccezioni e queste eccezioni ben codificate, o meglio che non la adotti, perché se poi dobbiamo aprire le informazioni solo per cose che più o meno conoscono tutti e sulle quali abbiamo anche possibilità di accesso diverso, allora non serve assolutamente a nulla. È per questo che bisogna eliminare l'aggancio del freedom of information act con la possibilità che un governo, un'amministrazione ci metta le mani e in questo sta il senso di renderlo un principio costituzionale e questo Chidenius l'aveva capito benissimo, se noi facciamo in modo che questo rimanga una legge ordinaria e quindi passibile di essere modificato da qualsiasi governo viene in carica, in quel momento lo rendiamo fragile come principio e ogni amministrazione avrà interesse a coprire il più possibile. Quindi dal momento che in Italia stiamo discutendo di libertà di accesso non sarebbe il caso di riflettere su quali sono gli elementi costitutivi di tale libertà affinché ci in qualche maniera adottiamo una libertà di accesso non frammentata, nel senso che Chidenius dava a questo termine. vi faccio vedere brevemente come funziona in Inghilterra, se voi vi collocate al sito dell'information commissioner inglese che è quello che potrebbe diventare l'ANAC, se all'ANAC fosse data la patata bollente di gestire poi effettivamente il Freedom of Information Act italiano, come alcuni sperano e credo sia anche ragionevole sperarlo e come nella bozza di legge FOIA presentata da FOIA for Italy effettivamente c'è questa possibilità. All'interno del sito dell'information commissioner inglese c'è una guida proprio a che cos'è il Freedom of Information Act e come si utilizza. Questa è la dicitura che sta in qualche maniera campeggio come primo elemento informativo del FOIA inglese. Ognuno ha diritto di accedere alle informazioni ufficiali, la divulgazione di informazioni dovrebbe essere la regola, in altre parole le informazioni devono essere tenute riservate solo quando vi sia una buona ragione o quando è stabilito dalla legge. vedete come anche in questo caso il principio per cui è dominante il principio di apertura e di conoscenza delle informazioni prevale rispetto ad altri principi che sono appunto la riservatezza, non la privacy, la riservatezza della formazione dei documenti o della divulgazione. Il richiedente non ha bisogno di fornire una motivazione per l'accesso alle informazioni, al contrario deve essere giustificato il rifiuto dell'amministrazione e qui è lo sconvolgimento del principio che attualmente vige anche in Italia. Le libertà di accesso copre tutte le informazioni registrate e detenute da un'amministrazione pubblica, non si limita ai documenti ufficiali ma ricomprende anche bozze di documenti, email, note, registrazione di conversazioni telefoniche e registrazione video. Vi dico solo perché sapete che amo i casi insomma. Un esempio che mi è successo recentemente è da un po' che ricevo richieste di pareri perché in qualche maniera le persone pensano che io possa rispondere su alcune cose. Mi è arrivata una molto interessante che diceva che all'interno di un comitato di rappresentanza, adesso non vi sto a spiegare che cosa, si era deciso di adottare un codice di comportamento. Uno degli articoli di questo codice di comportamento diceva, stabiliva che tutte le mail, cioè tutta la comunicazione interna di quell'organizzazione, la comunicazione con le altre organizzazioni doveva essere tenuta riservata e chiunque avesse divulgato quelle informazioni era passibile di sanzioni disciplinare. Un articolo di regolamento del genere vietava espressamente la divulgazione di corrispondenti. Ecco, il regime di freedom of information act questo non sarebbe possibile. In Italia ancora questo potrebbe essere possibile in qualche maniera, ma pensate quanto siamo distanti, chiaramente non tutti, ma chi aveva pensato a questo tipo di soluzione dagli schemi e dalla cultura che c'è dietro il freedom of information act. Siamo proprio agli antipoti, poi possiamo decidere che è giusto uno o sbagliato l'altro, io non sto dicendo questo, ma sto dicendo attenzione che c'è ancora molta strada da fare su questa cosa qui. Anche le lettere che si dicevano dal pubblico, chiunque può fare richiesta di informazioni, non devi essere cittadino del Regno Unito o residente del Regno Unito, possono farle anche organizzazioni, questa è una nota interessante, anche i dipendenti pubblici possono fare richiesta di accesso liberamente, essendo chiaramente all'interno della categoria a chiunque c'è anche il dipendente pubblico, anche se gli inglesi fanno questa notazione interessante, anche se una buona comunicazione interna, i rapporti con il personale normalmente dovrebbero evitare tale evenienza, immagino gli italiani su questo. Quando qualcuno richiede informazioni che includono dati personali di qualcun altro, bisogna necessariamente bilanciare il principio di trasparenza e di apertura con il diritto della persona interessata alla riservatezza ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Questo ci fa capire una cosa, che accanto alla norma sulla libertà di accesso, bisognerebbe sempre fare un'altra norma sulla protezione dei dati. Non tanto un dispositivo regolamentare come adesso le linee guida del garante della privacy che sicuramente sono una cosa fondamentale, ma proprio una legge che definisca in maniera abbastanza trasparente e una volta per tutte quali sono o i criteri o le fatti specie da tenere sotto esclusione. C'è una legge sulla protezione dei dati che sia però in diretta emanazione di una normativa sulla libertà di accesso. Ce ne vorrebbe anche un'altra legge sul cosiddetto secrecy act, cioè un'altra legge su che cosa invece deve essere tenuto segreto. Non che non ci siano, ma bisognerebbe riferirle direttamente come situazione di esclusione della libertà di accesso. Adesso ne parliamo più approfonditamente. Un altro elemento fondamentale sono i costi. È ragionevole far sostenere dei costi a chi chiede di accesso. Secondo gli inglesi queste spese dovrebbero essere ridotte al minimo, cioè si dovrebbe far spendere dei soldi alle persone che accedono solamente quando questi sono i costi per trasmettere le informazioni richieste, però con un principio. Ciò che può essere trasmesso online dovrebbe essere gratuito e siccome più o meno tutto può essere trasmesso online attraverso la scannerizzazione, più o meno tutto dovrebbe essere gratuito. La commissione inglese ha l'obbligo generale di esaminare le segnalazioni, quindi immaginate un parallelo italiano in cui l'ANAC sarebbe titolare di questo tipo di situazioni. Se un individuo ritiene che un'amministrazione non abbia risposto correttamente a una richiesta di informazione o perché per esempio abbia escluso l'accesso, si può segnalare tale comportamento alla commissione attraverso una semplice segnalazione. La commissione predilige delle risoluzioni informali, non bisogna cominciare ad avviare delle attività giurisdizionali perché questo anche in Inghilterra prenderebbe un sacco di tempo e soprattutto farebbe spendere un sacco di soldi al richiedente in avvocati e cose varie. Una delle minacce che noi abbiamo, infatti c'è un video che lo spiega bene anche l'Avvocato Bellisario, è questa, la minaccia al Freedom of Information Act è proprio data dal fatto che le amministrazioni potrebbero rifiutarsi l'accesso, dopodiché uno è costretto ad avviare un'attività giurisdizionale pesantissima, si deve pagare gli avvocati e questo oltre a rendere inefficace l'accesso perché non in tempo reale ma nemmeno posticipato di poco, renderebbe poi oneroso, questo poi a lungo andare renderebbe inefficace la libertà di accesso. Quindi si predilige la procedura informale, ma se la procedura informale non arriva a nessuna conclusione, l'Information Commissioner avvia una procedura, se si rendono conto che è stata violata una legge, se è stato escluso l'accesso per ragioni contrarie alla legge, la procedura stabilirà cosa occorre fare per mettere le cose a posto. Questo fanno gli inglesi, questo tra l'altro è anche questo, io vi consiglio, consultatelo sul sito che è molto semplice. Quindi FOIA è tutto quello che sta a sinistra, non FOIA è tutto quello che sta a destra, diciamolo così per semplificare. Quindi FOIA è l'accessibilità totale, ma non secondo la decidura del 33, attenzione, perché la decidura del 33, non dico che è ingannevole, è esatta solo per un certo numero di dati, quindi non è un'accessibilità totale, è un'accessibilità totale per quanto concerne i dati pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente, per tutti gli altri dati uno deve continuare a dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, quindi non è un'accessibilità totale, non so se è chiaro la differenza. Quando noi abbiamo gli obblighi di pubblicazione è abbastanza chiaro che in quel momento stiamo dicendo, attenzione, non tutte le informazioni sono libere, sono libere e pubblicabili, quindi solamente alcune di queste, che anche se noi sappiamo sono tantissime, sono state contate circa 260, possono non rappresentare l'esaustività delle informazioni in mano a quell'amministrazione e quindi non siamo in un regime di libertà di accesso. Quindi quando è che cominciamo a capire che non siamo in un FOIA? Quando cominciano uscire le leggi sugli obblighi di pubblicazione, esattamente, è proprio lì, perché siamo in un principio contrastante. Quello che invece ho visto, ho potuto sperimentare, è che un FOIA agisce come facilitatore e promotore di modelli di archiviazione, lì le amministrazioni vanno obbligate non tanto a pubblicare, ma ad archiviare e quindi migliorare la qualità dell'archiviazione sicuramente è fondamentale. L'altro elemento fondamentale, l'assenza o forte limitazione della discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nell'applicare un'eccezione. Se si lasciano criteri molto aperti di esclusione, quindi ogni funzionario pubblico è lasciato determinare in maniera molto ampia su che cosa si deve escludere dal diritto di accesso o che cosa no, allora siamo in un regime non FOIA. Poi ci sono due livelli diversi, se si debbano adottare delle soluzioni tassative, il grande libro delle eccezioni come fanno gli sveresi, in cui ci sono scritti tutte le fatti specie che devono essere escluse, una per una, e tu non puoi uscire da quella tassonomia di fatti specie. Oppure si possono adottare dei criteri come quello inglese in cui vengono forniti dei criteri su quale puoi fondare una interpretazione. Più i criteri sono stringenti, più chiaramente l'interpretazione in qualche maniera è possibile contenerla. Però fatti specie o criteri devono essere comunque molto stringenti, bisogna in qualche maniera fare in modo di disinnescare la forza escludente dell'amministrazione, perché l'amministrazione ha un naturale interesse ad escludere sostanzialmente, soprattutto quando non c'è ancora una forma mentis, un'educazione, una cultura all'apertura come abbiamo adesso in Italia, non ce l'abbiamo ancora, queste leggi servono anche a creare questa cultura dell'apertura. Il rilevanza dell'interesse ad accedere, il rilevanza della motivazione ad accedere, questi sono i due elementi che forse si conoscono meglio di un foia, perché noi invece abbiamo una legge contraria, abbiamo la rilevanza dell'interesse ad accedere. Il principio della gratuità sostenibile non bisogna far sostenere i costi al richiedente, a meno che questo non sia insostenibile per l'amministrazione evidentemente. Io poi inserisco la rilevanza costituzionale, ma la inserisco come un di più, in realtà molti foia non hanno rilevanza costituzionale, ma io dico se vuoi fare una buona legge sulla libertà d'accesso dovrebbe avere rilevanza costituzionale, perché c'è troppo interesse, soprattutto all'inizio e c'è una cultura contrastante talmente ampia all'interno delle amministrazioni, a livello politico soprattutto, che la rilevanza costituzionale ti potrebbe permettere di arginarie le situazioni di esclusione che ogni amministrazione, ogni governo potrebbe effettivamente apportare. Questo non vuol dire che se c'è una legge in costituzione questo non avvenga, però sicuramente la rilevanza costituzionale è un elemento in più. Poi soluzioni ad hoc per le controverse in Italia è fondamentale perché la giustizia amministrativa, civile o penale è quello che renderebbe disapplicata in toto questo schema e in rilevanza dello status di cittadino. Chiunque accede liberamente non è cittadino italiano, può essere anche un non cittadino italiano o un apolite, questo è un principio importante, perché l'accesso non è riferito al richiedente, dato l'informazione è già libero, quindi non si capisce perché uno può accedere, uno può accedere, infatti nelle linee guida inglese c'è scritto proprio quando rilasciate un documento dovete pensare che lo state rilasciando non al richiedente, ma al mondo intero, questo è quello che sta scritto nelle linee guida inglese. Qui abbiamo parlato del DLGS 33 e perché questo non è un FOIA, perché nel momento in cui ci sono obblighi di pubblicazione siamo in qualche maniera dicendo c'è un principio sotto che dice non esiste libertà di accesso, ma io ti garantisco l'accesso ad alcuni documenti che io, ordinamento giuridico, definisco in qualche maniera importante pubblicare. Perché non è un principio FOIA? Perché in realtà è il governo stesso, l'amministrazione governativa che ti sta dicendo quali sono i documenti e i dati importanti da pubblicare, in realtà l'amministrazione governativa è proprio il soggetto che dovrebbe essere controllato e quindi come fa il controllato a dire al controllante, te li dico io quali sono i dati e le informazioni di cui tu hai bisogno, non regge dal punto di vista concettuale. Per questo il 33 non è una Freedom of Information Act, ma nessuno onestamente ha mai detto che questo fosse un Freedom of Information Act. si garantisce trasparenza assoluta, quindi accessibilità assoluta, totale come dice la definizione dell'articolo 1, però solo agli obblighi di pubblicazione, cioè solo agli dati che stanno sotto obbligo di pubblicazione. Per gli altri rimane ancora questa idea che bisogna garantire accesso solo a chi può dimostrare di avere un interesse. Quindi non a tutte le informazioni si avrebbero di accedere, ma solo a quelle che stanno dentro l'amministrazione trasparente. Per tutte le altre vige ancora il vincolo di dover dimostrare un interesse diretto. Invece il full access è il contrario. Le eccezioni devono essere certe, vedete nella foto questo grande libro delle eccezioni. Dicevamo prima, criteri o si forniscono delle tassonomie o delle fatti specie alle eccezioni o si forniscono dei criteri attraverso i quali il funzionario pubblico, chi deve decidere se escludere o no, ha la possibilità di farlo. Ed ecco, questi sono dei criteri che sono stati proposti da FOIA for Italy nella loro bozza. Come vedete sono di due tipi, sono due lettere A e B. Io adesso non ho tempo di approfondirli, però sono molto interessanti. Quindi noi in qualche maniera, se adottiamo questa legge, in realtà siamo un po' per un FOIA più soft, cioè non stiamo inserendo delle tassonomie, delle fatti specie molto rigide alle ipotesi di esclusione. Questo anche perché in qualche maniera è molto complicato, molto complesso costruire quel grande libro delle esclusioni. Gli svedesi ci sono arrivati dopo 250 anni, noi non avremmo tutto questo tempo. Allora in questo caso si adottano dei criteri. Gli altri criteri sono questi qui. Quindi in Italia almeno la proposta è utilizziamo i criteri, però i criteri hanno questo problema che fanno interpretati e che sulle interpretazioni poi ognuno la pensa come vuole. Immaginatevi cosa può succedere su questo. In questa slide, che è un po' riepilogativa, io inserisco le tre fatti specie, le tre normative che stanno alla base del ragionamento che abbiamo fatto in Italia. La legge 241 del 90, il decreto legislativo 33 e la bozza che è stata proposta da Foglia Foritali di legge delega del governo. Come vedete nella 241 non abbiamo accessibilità totale, evidentemente, abbiamo un'assenza o forte limitazione della discrezionale della piana ad applicare un'eccezione, perché praticamente è tutto un'eccezione, il rilevanza dell'interesse ad accedere, il rilevanza della motivazione ad accedere, non sono principi chiaramente adottati dalla 241. Quello che possiamo sicuramente dire che c'è la 241 è una soluzione ad hoc per le controversie e che più o meno chiunque può accedere da questo tipo di... Il decreto legislativo l'abbiamo detto, come vedete ci sono obblighi di pubblicazione che escludono il libero accesso, ma garantiscono l'accesso solo a quegli obblighi di pubblicazione sostanzialmente. Mentre nella proposta del Foglia Foritali più o meno abbiamo tutti i principi del Foglia, però ce n'abbiamo uno che secondo me se rimane è veramente pericoloso ed è quello che sta sull'esterisco del no, vedete la seconda riga, anzi nella terza riga, assenza o forte limitazione della discrezionalità della PIA nell'applicare un'eccezione. Io qui ho messo un no, ma vi faccio leggere la proposta. Allora l'accesso escluso, abbiamo detto che l'accesso deve essere escluso solo per due situazioni, tutela della privacy e sicurezza nazionale. Però viene introdotto un terzo elemento di esclusione che io vi leggo, quando l'accesso costituisca ostacolo oggettivo al proficuo svolgimento dell'attività amministrativa, in questo caso l'accesso non può essere differito oltre il tempo strettamente necessario di evitare tale conseguenza, comunque non oltre 120 giorni. Quindi qui abbiamo l'idea che l'accesso può essere differito di 4 mesi, però come vedete l'accesso viene garantito all'interno però del proficuo svolgimento dell'attività amministrativa. Adesso sfido chiunque di voi a dire che questo non sia un elemento che fa saltare in aria un po' tutto il nostro foie. Comunque, se noi leghiamo l'accesso all'idea che questo non costituisca ostacolo oggettivo al proficuo svolgimento dell'attività amministrativa, più o meno ogni accesso potrebbe tendenzialmente recare ostacolo al proficuo svolgimento dell'attività amministrativa, ma il principio non è quello di salvaguardare in toto l'attività amministrativa, ma c'è un principio di informazione che prevale rispetto a spesso e volentieri al proficuo svolgimento dell'attività amministrativa. Un'attività amministrativa può essere proficuamente svolta, ma potrebbe essere sbagliata, potrebbe essere particolarmente pericolosa per il destinatario o per i cittadini, quindi se io ho maggior interesse a fare in modo che il proficuo svolgimento venga interrotto e quindi ho maggior interesse ad avere informazioni per fare in modo di interrompere quello proficuo svolgimento dell'attività amministrativa. Però qui chiaramente lo metto alla vostra attenzione, perché questa è effettivamente inserita nella bozza che in qualche maniera abbiamo. Quindi rispetto alla 241 abbiamo una totale incompatibilità con il Freedom of Information Act, cioè se passa una normativa italiana sulla libertà di accesso fatta bene, la 241 del 1990 non può essere più sostenibile, non è sostenibile, mentre è sostenibile il 33 del 2013, noi possiamo pensare di avere una libertà di accesso e un'apertura totale con quelle varie esclusioni, però potremmo anche pensare di dire rendiamo le amministrazioni pubbliche un po' proattive rispetto a questo, non aspettiamo che le persone chiedano, facciano richiesta di accesso, ma diciamo in questo momento storico in Italia è importante che noi abbiamo almeno questi dati sotto obbligo e allora c'è compatibilità con il decreto legislativo 33. Mentre la proposta della foglia fuori Italia è la migliore proposta in campo perché in realtà adotta più o meno tutte le cose che ci siamo detti, anche se ha questi elementi ancora da migliorare, però sappiamo che lì dentro ci sono forze, capacità e intelligenze talmente elevate che possono migliorare, stiamo al sicuro, almeno per quanto riguarda foglia fuori Italia, vediamo quello che decide il governo perché in questo momento probabilmente si sta già scrivendo qualcosa del genere, adesso io non lo so. La mia raccomandazione finale è mettiamo almeno il principio in costituzione, anche se è molto difficile, molto complesso, ma quello ci metterebbe al riparo da un sacco di cose. L'altra cosa è che noi abbiamo un principio all'interno del nostro ordinamento assolutamente in linea con la libertà di accesso e che spesso ce ne dimentichiamo, ma è questo articolo del codice di comportamento che è la seconda comma dell'articolo 9 del codice di comportamento che appunto si chiama trasparenza e tracciabilità, leggendolo vi renderete conto di quanto ci siamo vicini, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere in tutti i casi garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità, questo è l'elemento chiave di ogni libertà di accesso, se dentro la testa dei funzionali pubblici non entra l'idea che tutto quello che fanno, tutto il loro lavoro per arrivare a una decisione debba essere documentato e replicabile, allora noi non avremo un sistema di archiviazione degno di quel nome e non avremo efficacia rispetto alla libertà di accesso. Ed è questo lo spirito con cui un dipendente pubblico si deve approcciare alla libertà di accesso, l'idea è quella appunto illuminista di Rousseau perché diceva i funzionari pubblici dovrebbero operare sotto gli occhi dei cittadini. Questo è l'ultima slide in cui vi dico, le vere riforme sono solo quelle che trasformano le società e modificano l'atteggiamento di chi le amministra, quindi non possiamo dire che una riforma è una riforma ancora prima di farla questa riforma, la riforma la possiamo definire riforma solo dopo un po' di tempo, dopo un po' che ne vediamo gli effetti, quello svedese fu una vera riforma perché la Svezia da quel momento entrò in uno status mentale di atteggiamento dell'amministrazione pubblica che gli fece drasticamente cambiare rotta e non per questo diventò una delle democrazie più invidiate. Però ci sono due principi fondamentali come atteggiamento che ci permettono di entrare nella freedom of information actors, almeno nel modello svedese, il governante, sia esso un politico, un dipendente pubblico, cioè colui che diventa in un momento decisore pubblico su qualcosa, deve sapere che la sua azione dovrà sempre essere visibile al pubblico, se non si ha nulla da nascondere, non si deve avere paura della libertà di accesso garantita al pubblico, il cittadino dal canto suo deve sapere usare la libertà di accesso non per garantire un vantaggio personale, un vantaggio del proprio gruppo di potere, ma per poter partecipare attivamente alle decisioni pubbliche, queste sono le conclusioni non mie, ma del povero dottor Rossi, che sapete e conoscete bene, è un funzionario pubblico che di fronte a certe situazioni ha ancora un atteggiamento di riflessione etica su quello che succede nel mondo, con particolare riferimento al mondo dell'amministrazione pubblica. Con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, so che è stata una cavalcata unilaterale, ma spero di ritornare su questi argomenti, scrivetemi se avete domande da fare e io aprirò uno spazio sulla comunità integrità se voi pensate che sia importante parlarne, perché come al solito queste non sono informazioni che possono essere limitate nello spazio di un'ora e mezza, ma richiederebbero più ragionamento. Vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e un buon rientro nelle vostre amministrazioni pubbliche.